La bicicletta è un mezzo di trasporto intelligente sia dal punto di vista dell'impatto ambientale sia a livello economico, dato che riduce sensibilmente i costi legati alla mobilità urbana, sia aspetto non meno rilevante per la salute degli individui. Parola del Presidente del Consiglio Mario Monti, che ha scritto una lettera di adesione a Salva i ciclisti, il movimento spontaneo che da più di tre mesi si muove con successo sul web e che il 28 aprile scorso ha organizzato un appuntamento a Via dei Fori Imperiali a Roma con migliaia di adesioni. Monti conclude la sua lettera con un incoraggiamento ad andare avanti, anzi a pedalare per migliorare le condizioni di mobilità di chi usa la bici. E dal web salveciclisti.it è arrivata la risposta a Monti, dove si sottolinea come il modello di spostamento italico una persona, una macchina sia irrazionale, inquinante e spesso mortale. I ciclisti concordano con Monti sui benefici economici di lasciare l'auto a casa e concludono ringraziando per l'incoraggiamento a continuare, cosa che assicurano faranno anche perché per loro muoversi in bici, oltre ad essere una questione di civiltà, è anche una questione di sopravvivenza, dato che in Italia gli incidenti stradali hanno ucciso dall'inizio dell'anno 246 pedoni e 114 ciclisti.